Capsule Borbone Compatibili Nespresso Capsule Borbone Compatibili Nespresso dal Cafiblitz Shop in Svizzera. Azioni e offerte sempre su Cafiblitz.shop Ordina adesso le tue capsule Borbone Compatibili Nespresso nel Cafiblitz.shop Seguici su Instagram su Cafiblitz Shop e su Twitter su www.cafiblitzbankshop In caso di domande, contatta il nostro servizio clienti tramite WhatsApp all'indirizzo 0799451334 Grazie mille per il vostro interesse per i nostri prodotti Borbone.